Donare un contributo ad una causa che ti sta più a cuore, a costo zero, senza impegni, al fine di sostenere iniziative delle associazioni della tua comunità, le associazioni a promozione sociale come Camita PS, le associazioni di volontariato, associazioni sportive e le onlus. Questi sono i motivi per cui dovresti destinare il tuo 5x1000 ad una tua associazione, altrimenti lo recuperi allo stato se non lo fai. La domanda è, come destinare il tuo 5x1000 e entro quando va fatto? Jingle! Allora, come destinare il tuo 5x1000? Hai due possibilità. La prima è proprio al momento della dichiarazione dei tuoi redditi presso un centro di assistenza fiscale CAF oppure dal tuo commercialista. Ti basta inserire i codici fiscali della tua associazione nel riquadro sostegno adenti del terzo settore che trovi nel tuo modello 730 oppure certificazione unica e modello redditi delle persone fisiche e quindi inserire i codici fiscali della tua associazione come quello di Camita PS 97876140019 per sostenere le iniziative sociali e culturali per le nostre comunità straniere. Ricordi che offriamo anche servizi di assistenza fiscale in quanto siamo affiliati ad uno CAF quindi potresti fare anche il tuo 730 con noi scegliendo a chi destinare il tuo 5x1000 al momento della dichiarazione. Contattaci via mail a ragiocamit.gmail.com oppure compilando il modulo in descrizione a questo video nel caso in cui avresti bisogno dei nostri servizi. Insomma ci occupiamo di immigrazione e di assistenza fiscale. Grazie di cliccare sulla campanella in basso a destra per non mancare i prossimi video. La seconda possibilità è donare il tuo 5x1000 senza presentare la dichiarazione di redditi. Ti basta compilare la scheda allegata alla certificazione unica oppure al modello redditi delle persone fisiche. Inseriscila in una busta chiusa con la scritta scelta per la destinazione del 5x1000 dell'IRPEF. Metti il tuo nome, cognome e codice fiscale del contribuente e consegnala all'ufficio postal o alla tua banca. La seconda domanda è quando va destinato il tuo 5x1000. Le scadenze per la dichiarazione dei redditi vanno in base al modello della dichiarazione che viene presentato. Il 30 settembre 2024 per la presentazione del modello 730 e 15 ottobre 2024 per la presentazione del modello redditi delle persone fisiche se lo presenti per via telematica. Ora vediamo come calcolare il tuo 5x1000. Facciamo un esempio. Con un reddito pari a 25.000 euro annuo il tuo 5x1000 corrispende a circa 30 euro. Questo è l'importo che potresti destinare alla tua associazione. Sembra poco ma fa davvero la differenza. Così facendo sostieni le iniziative delle associazioni del terzo settore ovvero il no profit. Ora sai che cos'è il 5x1000? 1. Non comporta nessuno costo per te 2. Se non destina il tuo 5x1000 l'importo resta allo Stato 3. Donare il tuo 5x1000 è molto semplice 4. Ti basta inserire il codice fiscale di KamitaPS oppure della tua associazione nel ricordo dei modelli CU Unico o 730. 5. Puoi anche donare il tuo 5x1000 senza presentare la dichiarazione dei redditi. Destina ora il tuo 5x1000 alla tua associazione grazie di lasciare un like e di condividere i video se ti è piaciuto. Ci vediamo presto per un altro video su Reggio Kamita oppure in sede di ingrazione dei redditi per calcolare il tuo 730. Ciao!